buonasera a tutti termina questa terza domenica di avvento la domenica in gaudere la domenica della gioia vorrei insieme a voi ringraziare gesù ringraziare maria perché è bello sperimentare il dono dell'amicizia della fraternità del sentirsi amati io ve lo voglio dire davvero con tutto il mio cuore non sono perfetto ma mi sforzo con tutto me stesso di farvi percepire la mia vicinanza davvero tanti messaggi vostri sono molto sofferti e sofferenti e gesù mi è testimone che io gli dico sempre abbi pietà abbi pietà di queste povere anime ti gridano aiuto abbi pietà e allora amici stringiamoci in un abbraccio stringiamoci in un affettuoso abbraccio fraterno diciamocelo questa sera io ti voglio bene perché fa bene sentirselo dire adesso noi recitiamo un angelo di dio poi voi quando sarà il momento di andare a letto magari qualcuno di voi lo è già in questo momento stringete la corona del rosario baciatela affidatevi a maria e chiedetela chiedetele di proteggervi sempre nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo buonanotte a tutti e a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti